31.000 firme per dire basta agli avvelenamenti degli animali domestici. Pene più severe per chi avvelena i cani è la richiesta di Antonio Nicola Labruzzi, fondatore dell'associazione nata per combattere l'emergenza Bocconi Avvelenati. Oggi il deposito ufficiale in Parlamento della petizione. Chiediamo, spiegano in conferenza stampa, che venga modificato l'articolo 544 bis del Codice Penale con un comma che preveda nel caso di avvelenamento doloso di animali che il reato venga considerato animalicidio preterintenzionale con aggravante della premeditazione e che abbia una pena detentiva non inferiore ai 10 anni ed una sanzione pecuniaria non meno di 50.000 euro. Quello che manca è soprattutto una corretta informazione, per questo l'associazione si impegna anche nel quotidiano. Punto per questo, giustizia per Sasha Onlus, che è nata a seguito dalla morte del mio cane per avvelenamento sei mesi fa, ha indetto dei corsi di primo soccorso per i nostri cani e soprattutto in caso di avvelenamento può darvi tutte le informazioni per poter agire e fare in modo di salvare la vita del vostro cane e non soltanto a lui ma anche ai nostri randaggi che molto spesso, specialmente in Meridione, sono vittima di questa bieca attività criminale. Un appello in particolare poi viene rivolto al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Abbiamo fatto un appello diretto al Ministro Lorenzin in modo che faccia, cioè riattivi in modo immediato l'ordinanza che regolamenta appunto lo spargimento al suolo dei bocconi. Petizione subito accolta dal Movimento 5 Stelle che ha già presentato una mozione in merito. Sì, abbiamo presentato questa interrogazione per sostenere la petizione online che ha fatto l'Associazione Una Giustizia per Sascia. In questa interrogazione, oltre a un inasprimento delle pene, chiediamo anche che sia di nuovo prorogata l'ordinanza del Ministero dell'Ambiente sulla non detenzione delle ESC e dei bocconi avvelenati. Grazie.